bello adoro i temporali non mi fanno più paura perché papà mi ha spiegato come funzionano e ora scopriremo insieme i loro segreti non ho più paura dei temporali quella nuvola grigia è un cummulo nembo si forma quando l'aria calda e umida incontra quella fredda e secca è una nuvola che causa tante cose come il vento la pioggia la neve e anche la grandine dentro la nuvola si mischiano tante cose come l'acqua la polvere e il ghiaccio tutte queste cose si scontrano e generano elettricità ma l'elettricità non resta lì ferma e cerca di scappare inizia a muoversi super veloce dentro la nuvola grigia e così crea i lampi di luce se questi lampi creano fortissime onde supersoniche che si chiamano tuoni quando vedete un lampo iniziate a contare un lampo uno due tre è arrivato il tuono il lampo era un chilometro di distanza per ogni tre secondi di ritardo c'è un chilometro di distanza tra noi e il lampo ma l'elettricità non resta lì a lungo esce fuori e colpisce la terra si chiama fulmine è importante stare al chiuso durante i temporali e non riparatevi mai sotto un albero è pericoloso perché i fulmini sono attratti dalle cose molto alte ma se restate a casa non può accadervi niente perché i fulmini colpiranno qualcos'altro adesso sapete che cos'è un temporale e non fa più paura